Che tempo? Che fa? Littizzetto, show su Filippa e Bossari, stoccata a Cecilia Rodriguez Luciana Littizzetto show. Nell'ultimo soiriderente intervento a che tempo? Che fa? La comica non poteva perdere l'occasione di dirottare la sua simpatia e ironia anche su Filippa Lagerbach, presente in studio, e Daniele Bossari, dopo che lo scorso lunedì la svedese ha ricevuto la proposta di matrimonio in mondo visione al grande fratello Vito. Tra risate sguaiate, addirittura in studio una signora non è riuscita a trattenersi, provocando l'intervento di Fazio, un po' di imbarazzo, quello di Filippa, e tanta simpatica impertinenza, Luciana ha dato vita a uno show esilarante, non risparmiando nemmeno una sarcastica stoccata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Andiamo a scoprire tutto. Littizzetto, meno male che c'è Filippa. Cecilia, ma chi se ne prega, abbiamo già visto tutto, classico siparietto a che tempo che fa, la Littizzetto si siede sull'acquario di Fazio e inizia lo show. Stavolta però gran parte dell'intervento è rivolto a un volto noto del programma di Rai 1, Filippa Lagerbach, quelle carone degli autori del grande fratello Vito, per far venire le fregole al suo fidanzato, l'hanno messo per una settimana con Aida Iespica, che non è certo una monaca. Luciana racconta con la sua tagliente ironia la vicenda, che ha portato Bossari a proporre il matrimonio alla compagna in mondo visione, la svedese in studio e con leggero imbarazzo sorride alle parole della comica, accenna anche un sussurrato un sacco di testimoni, a proposito dei milioni di spettatori, che hanno seguito la proposta di nozze in diretta. La Littizzetto non risparmia neppure una piccola sferzata alla roveguezza Ignazio, ma devo dire che anche Filippa l'ho vista molto motivata meno male, anche perché poi quando è entrata Cecilia, ma chi se ne frega abbiamo già visto tutto, taglia corti. Che tempo, che fa, le risate del pubblico provano l'intervento di Fazio, poi l'anedotto dell'anello di Filippa, la Littizzetto è stata talmente travolgente, che alcune risate squaiate in studio non si sono arrestate, tanto che Fazio è intervenuto in prima persona, cosa rivelei, a una spettatrice, nota della redazione. Si calmi, altrimenti Luciana pensa di dire cose intelligenti, infine la comica ha chiesto a Filippa la verità sull'anello ricevuto al GFB. Grazie.